Bentornati, io sono sempre in ottima compagnia, Giorgio Muccino accanto a me e oggi abbiamo una razza famosa, perché sono gli Scottish Terrier, sono molto più famose di quelle che abbiamo presentato fino adesso. Tu lo dici, lo dici la francese però, lo dici. Perché come si dice? Eh no, tu l'hai detto Terrier. E tu dici sempre Terrier, e io dico sempre Terrier, com'è questa cosa? La francese o l'inglese, però siccome sono cani inglesi, come abbiamo detto in altre puntate... Allora, Scottish Terrier. E poi loro hanno la loro vera pronuncia, il Scottish Terrier. Adesso mi entrai proprio nel dettaglio. Allora, hai detto bene, black and white, perché? Perché sono gli unici due colori. No? Allora, black and white, famosa marca di whisky. Eh vabbè, io non volevo dire la marca di whisky, scusa. Però insomma, dobbiamo dire, mica, facciamo niente di male, praticamente riconosceva nel loro marchio, nel loro logo, due razze di cani, che sono naturalmente due Terrier, uno è il... No, io le faccio le domande, scusate. Io non bevo neanche whisky. Io le faccio le domande. E io non so rispondere. Allora, uno era lo Scottish. Però i nostri telespettatori sicuramente lo sanno. Io ero convinta che fossero due Scottish. No, perché qui, naturalmente, ringraziando sempre la signora Marilisa Zammatti, allevamento della Zerlin, abbiamo due Scottish, due Scottish di due colori diversi. Perché qui, adesso ricominciamo dall'inizio. Allora, il Black & White riconosce nel suo marchio due Terrier, che sono due cani. Uno è uno Scottish Terrier nero. Giusto? Scusate, ho uno sternuto. Uno è uno Scottish Terrier nero, qui come Mona Lisa. E un altro, in realtà, è un cane bianco, che è un West Island White Terrier. Qui, tu sei stata presa un po' in castagna, perché, naturalmente, abbiamo due Scottish Terrier, ma di diverso colore. Quindi, fondamentalmente, lo Scottish Terrier, che veniva sempre preso in considerazione come un cane nero, quindi come Mona Lisa, in realtà riconosce nello standard altri due colori, che sono il nero totale, il nero brindle, quindi che è un nero con delle, chiamiamo, integrature più chiare, quasi color oro, e un altro Scottish meno conosciuto come colore, che è quello color grano, che quindi, diciamo, in questo caso qui abbiamo oro, che è un cucciolone di soli dieci mesi, sempre dall'allevamento della zirlina, che ha praticamente il suo classico color grano. Può essere più o meno intenso, quindi, naturalmente, la prerogativa di riconoscere nello Scottish solo il colore nero è una cosa che, naturalmente, non esiste. Quindi, se dovete mai vedere, e sono molto rari questi colori, uno Scottish di questo colore, comunque avete sempre davanti uno Scottish Terrier. Oh, per essere dei Terrier sono anche molto tranquilli, loro. Bravissima, infatti... È una prerogativa dello Scottish? È una prerogativa dello Scottish, la tua è un'osservazione molto giusta e molto corretta, brava, perché fondamentalmente, come abbiamo detto, i Terrier sono accomunati da questa loro più o meno prerogativa, che è quella di essere cani abbastanza ipercinetici, agitati, eccetera. Lo Scottish Terrier ringraziando il cielo anche per noi in questo momento, è un cane con un carattere, diciamo che la prerogativa dello Scottish, forse proprio la sua caratteristica è quella del carattere. Naturalmente, gli amanti di questa razza, come può succedere però, Fiorenza, anche per altre razze di cani? Chi ha avuto determinate razze, normalmente poi le ama a tal punto da non desiderare nella sua vita, magari di cinofilo. Quindi, la vita di un cane sappiamo che purtroppo è più corta di quella di una persona, insomma anche un po' per fortuna, per cui alla fine chi ha avuto una razza e si incapriccia di quella razza, in realtà cerca sempre di riavere quella razza, quindi ci sono delle persone che raggiunta, diciamo, un'età avanzata, quindi una certa maturità, dicono questo è il mio quarto, quinto Scottish, perché cosa succede? Chi ha avuto uno Scottish, come in realtà anche chi ha avuto un bassotto, diciamo la verità, o forse anche altre razze, io lo dico perché parlo dei bassotti, in realtà quello che fa cerca sempre di riavere la stessa razza, perché normalmente chi ha avuto uno Scottish si innamora, a parte del cane, del suo look, eccetera, ma si innamora anche del carattere. Il carattere dello Scottish è un carattere molto, molto riservato, è un carattere naturalmente che non è, in un certo senso, forse usando un certo termine, a volte abbiamo dei cani un pochettino come razza un po' più servili, un po' più attenti alle cose dei padroni, lui è un piccolo lord, proprio un piccolo re, quindi non accetta assolutamente nessun tipo di imposizione, è un cane estremamente fiero, è un cane che comunque ha una sua riservatezza, un suo modo di comportarsi, che naturalmente se ti piace questo tipo di carattere ti fa veramente, non so, innamorare, quindi desidererai per tutta la vita solo unicamente di avere Scottish. C'è Afra, il cane di Giorgio che sta burbottando, Spino sta piangendo. Allora, fondamentalmente quindi lo Scottish Terrier nasce anche lui in Inghilterra, in queste regioni piuttosto impervie, dove naturalmente c'era stata una grandissima selezione proprio anche dal punto di vista umano, perché la selezione faceva sì che un certo tipo di discorso, quindi la rusticità, fosse naturalmente la cosa più importante. Quindi come tutti i terrier, anche in questo caso, abbiamo dei cani di una rusticità incredibile, quindi pochissime esigenze e naturalmente la loro piccola taglia naturalmente permette anche un contenimento, sono Terrier a gamba corta, Monnalisa abbiamo detto che è un pochettino più grande di età e lui è solo un cucciolo, però diciamo che il peso finale di uno Scottish diciamo sia adulto, maschio o femmina può variare intorno ai 7-8 kg. Sono cani che hanno comunque una bella stazza, nel senso che sono belli compatte, bravissima, sono belli compatte. Allora, questo naturalmente, questo look gli viene dato naturalmente dalle attente mani, sempre come abbiamo detto, di un tolettatore professionista. Vanno quindi tuoi lottati? Sì, due volte l'anno sempre, come quasi tutti i terrier, abbiamo detto sempre le tolettature che sono lo stripping e poi tra uno stripping e l'altro c'è quello che si chiama trimming che comunque chiamiamolo un mantenimento di questa loro forma. Qualora uno non volesse più o meno poi occuparsi di queste cose avrebbe un cane abbastanza incolto, simile quasi più che altro ha un cinghialetto. Ti volevo chiedere, la parte superiore del corpo, il pelo è più corto? Sì, diciamo che... Ma è dovuto al fatto che è un cane toilettato? Esatto, esatto. Quindi se non fosse toilettato il pelo sarebbe esattamente questo che ha ai lati, così lungo? Esatto, diventerebbe quasi un cinghialetto. È un bello scabigliato? Lui diciamo che, come diciamo, è un cucciolo e lei è una femmina. Diciamo che le toilettature poi per le esposizioni sono identiche a queste, ma naturalmente molto più rifinite, quindi hanno quella cosa che si chiama proprio gonna, che arriva quasi per terra, quindi il pelo sui fianchi e sul dorso invece, sulla testa... Più corto. Esatto, è più corto. Una cosa che volevamo così più o meno, non so, banalmente aggiungere è dire che spesso e volentieri lo stripping viene preso in considerazione da molti proprietari di terrier, quasi come, non so, non dico una cattiveria per carità, però un'aggressione che si fa al cane e si preferisce lasciare. Questo diciamo che succede per i cani che naturalmente sono tenuti da noi in appartamento, cioè quindi che vivono in città, mentre diciamo lo stripping, in un certo senso il cane, se avesse la sua attitudine di cane cacciatore, quindi vivere in campagna, andare a caccia, infilarsi nelle tani, andare nel sottobosco... Avrebbe uno stripping naturale? Perfetto, bravissima. Avrebbe uno stripping naturale, quindi porterebbero... I rovi leverebbero il tenere cesso. Esatto, porterebbero via questo grande eccesso di sottopelo che poi va a inficiare proprio le condizioni di salute della pelle. Quindi se non volete pagare il tolettatore, portate il vostro cane a fare delle belle corse in campagna. In campagna, fatelo infilare in mezzo ai rovi, fatelo infilare nelle tani, questo naturalmente... Perché anche loro sono cani da tana, ovviamente, la loro statura... Sì, esatto, come tutti i terrieri. Oggi come oggi si sono praticamente perse queste, chiamiamole, attitudini alla caccia, quindi è un perfetto, veramente perfetto cane da compagnia e questo ce l'hanno dimostrato e ce lo continuano a dimostrare, diciamo, grandi personaggi della storia. È stato un cane che anche negli anni trenta è stato... ha avuto un grande successo, insomma, grandami della nobiltà lo avevano, personaggi famosi tra cui... Scott Fitzgerald. Brava. E poi mi rifiuto di dire gli altri, perché mi sono antipatici. Oddio. Fitzgerald invece mi ti piaceva particolarmente. Ma possiamo dirlo, uno era Hitler e poi lo devi dire che ti sta simpatico, scusa. No, 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 va benissimo, perché... L'altro non lo diciamo per evitare poleniche. No, famosi scottish... Beh, uno è tutt'oggi il presidente degli Stati Uniti d'America. Ma va? Ma sì? Il W. Bush, George W. Bush, che naturalmente è un cane conosciuto perché spesso e volentieri si vede appunto nelle manifestazioni, non certo ufficiali, ma insomma quelle un po' più familiari, c'è sempre il loro scottish. Quindi diciamo che ha delle caratteristiche, diciamo sicuramente la sua peculiarità è proprio quella di essere proprio diciamo un principino. È un gran piacere averlo proprio come cane da compagnia perché comunque non è un cane diciamo, non è un cane invadente, è un cane che accetta volentieri la tua compagnia, altrettanto volentieri rimane da solo, è un cane che non accetta nessun tipo di imposizione. e poi fondamentalmente ha questo look diciamo che io trovo poi sai di cani ne vediamo tanti, ne presentiamo tanti eccetera, però poi nell'immaginario ognuno di noi magari non può naturalmente avere, cioè non possiamo avere tutte le razze di cani perché poi... Dovremmo avere anche una vita molto lunga. Molto lunga e abbastanza diciamo tranquilla, però devo dire che nel mio immaginario per esempio uno scottish mi... Ti sarebbe piaciuto? Sì, sì. Invece sei cascato su Afra che è uno scottish gigante praticamente. Però diciamo che lo scottish è come tutti i terri, naturalmente loro hanno una grossa tenacia nel senso che comunque potrebbero essere specialmente forse nei maschi dei cani abbastanza diciamo combattivi, quindi chi l'ha avuto lo può sapere, insomma non si tirano indietro di fronte a niente. Mona Lisa ha una particolarità molto carina, il pizzetto bianco. Il pizzetto bianco che onestamente non so se è una cosa regolare, possono avere piccole macchie bianche comunque, questo si può essere vero, quindi siamo contenti di potervi diciamo nella nostra puntata di oggi, cioè vi abbiamo presentato lo scottish, naturalmente gran cane e in questo caso siamo contenti di poter avere diciamo in trasmissione anche uno scottish appunto color grano che è una peculiarità di questo mantello molto molto meno conosciuta, quindi qualora dovesse incontrare per strada uno scottish grano... Una rarità. Ecco quindi vi invitiamo a guardare le nostre trasmissioni perché ogni tanto vediamo queste... Giorgio Porcino riesce a trovare anche delle cose molto particolari. Beh è una cosa caratteristica. Giorgio ma invece parliamo della salute di questi cani, sono cani ovviamente molto resistenti. Robustissimi, robustissimi, tutti i teve, una peculiarità forse non voglio dire assolutamente un difetto però potrebbe essere il crampo rotulio, spesso queste razze diciamo basse sulle gambe possono avere queste prerogative, quelle di avere il crampo rotulio che non è praticamente è una rotula diciamo in poche parole che non ha una sede diciamo ben fissa ma può muoversi quindi questo insomma è una peculiarità che a volte in queste razze può correre però diciamo che è l'unica più o meno non dico patologia conosciuta però ripeto come tutti i terrier sono cani che hanno proprio una rusticità e quindi caldo, freddo, intemperie, sono cani appunto che anche in regimi diciamo climatici piuttosto diciamo avversi sopportano benissimo. Scusa se rido ma abbiamo un coro di pecore che arriva da un campo qui vicino. Però dici bene, guarda che addirittura io la mattina quando mi alzo non accendo nemmeno più la radio perché questo rumore, queste pecore devo dire che è molto più rilassante di tante trasmissioni. Giorgio abbiamo terminato anche per oggi, ti ringrazio. A voi, ciao. Ricordiamo prima di chiudere il nostro sito www.alice.tv ci vediamo presto, ciao a tutti.